Musica Capodanno a botti e feriti, violati tutti i divieti, nonostante le ordinanze dei sindaci, si è sparato dovunque in Campania per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. Si contano 14 feriti. A Napoli, quarantenne raggiunto da un proiettile vagante, a Carbonara di Nola un uomo ha perso un occhio. Omicidio a Napoli nella notte di Capodanno, la faida di Camorra non si ferma nemmeno nella festa. Salvatore Capone, 42 anni pluripregiudicato, è stato ucciso con tre colpi di pistola. A fuori grotta l'uomo era la scorta armata dei boss del rione Lauro. Capodanno con 8 channel, gli auguri in diretta a TV, trasmissione speciale dalle 17, dalle piazze della Campania alle speranze della gente e degli amministratori locali per il 2022. Dal Man di Napoli al lungomare di Salerno, con un occhio particolare alle città di Avellino e Benevento. Covid, De Luca, riaprire le scuole a febbraio. Il ritorno in classe è previsto per il 10 gennaio, ma il governatore avverte che serve un mese per vaccinare più piccoli e riaprire gli istituti scolastici in sicurezza. Intanto i contagi continuano ad aumentare. Da Ariano a Benevento il virus non si ferma, torna la paura in Valle Ufita, tra Ariano Melito, Grotta Minarda e Mirabella, dove si contano circa 200 contagi nelle ultime ore. Vaccinazioni anche nel giorno di Capodanno e nel Sannio 551 positivi, in sole 24 ore. Salernitana, Iervolino punterò sui giovani. La svolta societaria è arrivata pochi minuti prima della mezzanotte. I trasti hanno accettato l'offerta di Danilo Iervolino, che si appresta a diventare il nuovo proprietario del club. Lui dice, punterò sui giovani e sulla crescita del club. Eccoci, questi erano i nostri titoli. Bentrovati e buon anno dalla redazione del TG del canale 6968 Channel. E cominciamo con il bilancio dei feriti di questa notte di festeggiamenti. In Campania, ignorate le ordinanze antifuochi. A Napoli, un quarantenne è stato colpito al torace da un proiettile vagante, mentre a Carbonaradinola un uomo ha perso un occhio. Facciamo il punto in questo servizio. Non è bastata l'ordinanza del sindaco Gaetano Manfredi, che aveva previsto il divieto per botti e fuochi d'artificio a Capodanno. A Napoli, come nel resto della Campania, sono stati ignorati i provvedimenti restrittivi e i festeggiamenti, anche stavolta, per molti, si sono trasformati in una corsa negli ospedali. E di 14 feriti il bilancio complessivo per la Campania, nove dei quali tra Napoli e provincia. Nella città capoluogo un cingalese quarantenne è stato colpito al petto da un proiettile vagante. L'uomo, residente al quartiere Montesanto, si trova all'ospedale Pellegrini, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sempre a Napoli, una donna di 53 anni ha riportato gravi lesioni agli occhi per lo scoppio di un petardo e si trova al Cardarelli. Almeno due gli incendi in casa registrati per i festeggiamenti. I vigili hanno effettuato sei sequestri di fuochi illegali ed elevato altrettante sanzioni. Due le persone denunciate nelle ultime ore. In provincia, l'incidente più grave è avvenuto a Castellammare di Stabbia con una persona che ha riportato una lesione alla mano. Altro fronte critico, quello di Salerno. Nella notte, un appartamento in città ha preso fuoco proprio in seguito all'esplosione dei botti, salvi gli occupanti all'interno. Ed è stato trasferito, prima all'ospedale di Sarno e poi a Nocere Inferiore, un uomo di 47 anni, originario di Carbonara di Nola, che ha perso un occhio. Sempre nel Salernitano, un bimbo di appena 21 mesi ha riportato delle lievi ustioni alla mano per le scintille di una stellina di Natale, per il piccolo prognosi di una settimana. Sempre a Salerno, le forze dell'ordine indagano sull'esplosione di un ordigno che nella notte ha mandato in frantumi i finestrini delle auto e distrutto persino il marciapiede. La deflagrazione, avvenuta in via Laspro a Rione Carmine, è stata avvertita a centinaia di metri di distanza. Per la paura, alcuni residenti sono stati colti da malore. A completare il pesante bilancio, altri due feriti ricoverati negli ospedali di Avellino e Caserta. E la camorra a Napoli non si ferma neanche a Capodanno. C'è stato un omicidio questa notte a Fuorigrotta. La vittima era la scorta armata del boss del rione Lauro. Vediamo. Salvatore Capone, 42 anni, pluri, pregiudicato e vittima del primo omicidio a Napoli del 2022. La polizia indaga su quanto accaduto nella notte di San Silvestro in via Leopardi, nel quartiere di Fuorigrotta, a poca distanza dalla sua abitazione. Capone è deceduto dopo essere stato colpito da diversi proiettili di arma da fuoco in strada, repertati e sequestrati tra i bossoli. L'uomo era la scorta armata dei boss del rione Lauro, raccordo criminale tra Fuorigrotta, Bagnoli e i licciardi di Secondigliano. L'uomo ucciso nella notte a Napoli era vicino al gruppo Cesi, che è egemone nella zona al ridosso dello stadio Maradona, in contatto con gli espositi e con i licciardi. L'agguato avvenuto alle tre di questa notte viene letto come la risposta al raid che ha colpito il capo clan Vitale Troncone, in fin di vita all'ospedale del mare dopo essere stato raggiunto da una raffica di colpi il 23 dicembre scorso. Un agguato eccellente questo, forse in risposta all'incendio di un pub. Capone era molto vicino al boss Massimiliano Esposito del quartiere di Bagnoli, tanto che durante la sua latitanza era lui che ne gestiva il cellulare per le comunicazioni urgenti. Il quartiere di fuori grotta da tempo è attraversato da fibrillazioni delle cosche che si contendono lugrose piazze di spaccio e la gestione delle estorsioni. Ieri, già dal pomeriggio, mentre nel capoluogo campano si sparavano un po' ovunque botti per festeggiare il Capodanno, era illuminato a festa con deflagrazione di fragorosi fuochi d'artificio proprio nel rione Lauro, mentre l'altra metà del quartiere era in silenzio. Una situazione legata al fatto che il boss della zona vitale troncone è ancora grave dopo essere rimasta vittima dell'agguato. E cambiamo argomento per salutare il nuovo anno. 8 Channel ha programmato per oggi una trasmissione speciale in diretta a partire dalle ore 17, dalle piazze della Campania, le speranze di tutti i cittadini e degli amministratori per il 2022. Previsti i collegamenti in diretta dal MAN di Napoli a lungomare di Salerno con un occhio particolare alle città di Avellino e Benevento. E noi cominciamo proprio a capire com'è l'atmosfera con i nostri collegamenti in diretta. Cominciamo da Benevento con Maria Teresa De Lucia. Sì, buongiorno e buon anno da Benevento, dove abbiamo ascoltato nelle ultime ore dell'anno appena trascorso le opinioni dei cittadini. Benevento si lascia alle spalle un anno indubbiamente difficile in cui la pandemia ha segnato il settore economico e ha affiaccato le speranze degli operatori del comparto turistico. E per l'amministrazione invece la città ha scelto la continuità che ora punta sul green e sulle opportunità che arrivano con il piano nazionale di ripresa e resilienza. Tra i cittadini però speranze e aspettative per il 2022 si concentrano inevitabilmente sulla fine della pandemia. Ascoltiamoli poi, la linea può tornare allo studio. 2022, che cosa si aspetta? Saluto innanzitutto perché è la cosa che oggi ne abbiamo più bisogno. E confidiamo in un anno migliore sicuramente rispetto a quello che è stato. Tanta serenità e soprattutto salute. Spero un po' meglio degli ultimi due passati, con un po' più di libertà per tutti, ovviamente mantenendo le giuste distanze e rispettando le regole. Sappiamo molto di più rispetto al Covid, dunque mi aspetto un anno fatto di riforme un po' più per le persone e meno per altro. Un anno pieno di buone notizie e che magari questa situazione Covid-19 vada a sollevarsi in modo che possiamo riacquistare un po' tutti noi cittadini anche un po' di libertà. Si sperava adesso in una fine dell'anno migliore, ma dobbiamo stare attenti, dobbiamo tutelare la nostra salute, che è la cosa più importante, e speriamo che vaccinandoci appunto la situazione possa migliorare. La nostra normalità, sì, tutti speriamo quello, che si ritorni alla normalità il prima possibile. Adesso andiamo a vedere Angelo Giuliani cosa ci racconta la Piazza Libertà d'Avellino. Angelo. Buon pomeriggio Rossella, buon pomeriggio ai nostri telespettatori. La torre dell'orologio, le fontane di Piazza Libertà sono la cartolina di Avellino per salutare questo 2022 che sia davvero un anno di ripresa e di rinascita. È l'augurio del primo cittadino Gianluca Festa, condiviso anche dalla gente che abbiamo ascoltato lungo Corso Vittorio Emanuele, in mattinata, andiamo a vedere. Ce la stiamo mettendo tutta, dipende anche tanto da noi, quindi stiamo sulla strada giusta. Speriamo di sì che sia l'anno della rinascita e della fine di questa pandemia. E per la città? Per la città è una città più bella. Io spero che quest'anno ci porti un pochettino di soliva a tutti, perché ne abbiamo bisogno. Anche per il lupo? Anche per il lupo, specialmente per il lupo. Io spero che quest'anno ci dia grossa soddisfazione, lo meritiamo. L'anno della svolta deve essere, in tutti i sensi. Che sia un anno sereno, il cambio poi penso che ci vorrà ancora un po' di tempo. Dobbiamo essere fiduciosi che quest'anno ci porti alla rinascita, sia in senso positivo della sanità, della salute e sia in senso di un pochettino più di lavoro e più di ricrescita della città. Speriamo, ma noi ogni anno diciamo sempre la stessa cosa, poi gli avvenimenti purtroppo sono imprevisti. Anche per noi ragazzi è molto importante, diciamo, riprendere la nostra vita in mano, diciamo. Senti, e per la città cosa ti auguri? Sei un po' spenta, speriamo che si riaccenda di nuovo. Sono convinto che il prossimo anno sarà l'anno della rinascita. Buon 2022 a tutti voi. E chiudiamo i nostri collegamenti, andiamo a Salerno dove per noi c'è Sara Botte. Sara, te la linea. Sì, buon pomeriggio a voi. Anche qui da Salerno abbiamo raccolto le testimonianze dei cittadini, quali sono i sogni per questo anno che sta iniziando. Iniziando, sentiamo proprio le loro voci. La salute, guardate, la prima cosa è la salute. E l'altra cosa è che ci togliamo immediatamente questa mascherina. Nel frattempo si sono appannati anche gli occhiati. Il sogno è quello di tutti, cioè di toglierci la mascherina e tornare a una vita normale, ovviamente. Poi per noi salernitani diciamo che l'anno è cominciato bene, con perlomeno la non esclusione della salernitana dal campionato. Il sogno è che possiamo tutti uscire senza mascherina, troppo. Un sogno abbastanza ambizioso, però io ci spero di poter incontrare persone amiche. Questo è il sogno, che auguro a tutti, ovviamente, non solo a me stessa. Speriamo che questa pandemia finisce e ci possiamo abbracciare tutti quanti come prima. Serenità, solo quello. La salute, serenità, quindi non... Positivi, si può dire? Bisogna essere positivi? Che vada via questa pandemia, assolutamente, perché due anni sono tanti. Quindi ci auguriamo che finisca il prima possibile con la volontà di tutti e con l'impegno di tutti quanti. Speriamo bene, veramente, perché il 2021 è stato proprio brutto, brutto, veramente, triste. Speriamo bene, incrociamo le dita. Buon anno a tutti! E la pandemia purtroppo non rallenta. C'è un'ipotesi di scuole chiuse in Campania fino a fine gennaio. Il governatore De Luca lo ha accennato ieri nel corso della sua consueta diretta settimanale, ma intanto la Campania resiste e rimane in zona bianca. Vediamo. Ipotesi didattica a distanza fino a fine gennaio in Campania per accelerare con i vaccini per i più piccoli. Il governatore lancia la proposta e si appella al buonsenso di tutti per provare a fermare la corsa del virus. Il grosso dei flussi di contagio vengono oggi da quella fascia di età più bassa. Ragioniamoci, abbiamo qualche giorno di tempo. A me sembrerebbe più ragionevole utilizzare un mese di tempo per ampliare per quanto più possibile l'area di vaccinazione per i bambini più piccoli. Per arrivare magari a fine gennaio e riaprire le scuole in condizioni di maggiore sicurezza. Mentre Liguria, Marche, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Calabria, la provincia autonoma di Trento e quella di Bolzano sono in zona gialla, la campagna resiste in zona bianca. Noi dobbiamo aspettarci fra il 15 e il 20 gennaio un altro picco di contagi. Il governatore non risparmia bordate al governo. Questo è un decreto che contiene solo babbarie, cose inutili, ingestibili, incomprensibili che servono solo a salvarsi la coscienza. Nella sua consueta diretta il governatore rinnova l'appello a vaccinarsi e augura buon anno a tutti i campani. Un augurio davvero affettuosissimo di buon anno a voi e alle vostre famiglie. Tre giovani si sono persi ieri sera in montagna. Nel Salernitano è accaduto a Calvanico a salvarli i tecnici del soccorso alpino e speleologico della campagna che insieme ai carabinieri forestali sono intervenuti sul Monte Mai, altura dei Monti Picentini. Ragazzi hanno perso il sentiero ed erano senza alcun tipo di illuminazione. Non riuscendo a ritrovare la strada hanno chiamato i soccorsi. I giovani sono stati individuati e raggiunti intorno alle 22, riscaldati e rifocillati. Sono stati poi ricondotti a valle. Napoli riparte, grazie Draghi. Così il sindaco Gaetano Manfredi che per il 2022 ha lasciato un messaggio alla città annunciando l'approvazione della norma salva debiti. Intanto è ancora polemica per la foto che ritrae alcuni dirigenti di Fratelli d'Italia a fare il saluto romano. Vediamo. Il miliardo e 300 milioni di euro assegnati alla nostra città sono un segno potente delle aspettative che il governo ha in Napoli e nei napoletani e nelle enormi potenzialità della nostra città. Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi alla vigilia di Capodanno prima di fare gli auguri ai suoi concittadini ha voluto rimarcare il significato dell'approvazione in Parlamento della cosiddetta norma salva comuni grazie al presidente Mario Draghi e grazie al governo a partire dal ministro Franco e dal sottosegretario Garofoli che hanno creduto in questo grande progetto di rilancio. Adesso tocca a noi dimostrare di essere all'altezza della sfida e a margine del discorso del presidente della Repubblica il sindaco ha voluto anche ringraziare Mattarella per aver rappresentato in maniera straordinaria l'unità del paese. Intanto non si esaurisce la scia di polemiche che ha accompagnato la pubblicazione della foto pubblicata sul profilo di Fratelli d'Italia dove una trentina tra dirigenti, candidati e militanti del partito sono in posa mentre fanno il saluto fascista. L'immagine è stata scattata a Napoli per la celebrazione del quarantesimo anniversario del Movimento Sociale Italiano a Piazzetta Augusteo. Nella foto tra gli altri il componente della direzione nazionale Luigi Rispoli, Alfredo Catapano e l'ex consigliere regionale Pietro Diodato. L'AMPI, l'associazione partigiani di Napoli condanna il detestabile gesto e invita il prefetto, il sindaco e gli esponenti di tutte le forze democratiche antifasciste della città ad individuare e denunciare chi si è reso colpevole di un reato tanto grave in un momento per di più in cui il paese necessita di unità, di recupero di valori e di difesa della Costituzione. Andiamo in costiera amalfitana un brindisi e poi un tuffo in acqua a città raccolto così il 2022 decine di coraggiosi hanno onorato l'evento organizzato dal Cali Salerno. E' iniziato con un tuffo in acqua e un brindisi a mare il 2022 per cetare la costiera amalfitana. Un vero e proprio appuntamento fisso per il capodanno salernitano quello promosso ormai da anni dal club alpino di Salerno sulla spiaggetta del Borgo dei Pescatori. Questo è un rito che si ripete ogni anno e che in realtà in qualche modo coinvolge tanti tanti soci tutti quanti alle prese con questo battesimo del mare perché è bene augurante per l'anno che sta arrivando e che è arrivato e speriamo che ci porti tanta tanta serenità e che in qualche modo ci faccia dimenticare quello che sono, come dire, il problema legato al Covid che ci sta tartassando e che ci sta rendendo la vita sicuramente più difficile. L'augurio che tutti possano godere della massima serenità, della massima tranquillità e del piacere di vivere all'aria aperta. Presidente, però la domanda che si faranno tutti quelli che ci stanno guardando in questo momento è l'acqua è fredda. L'acqua è fredda ma si sopporta tranquillamente. Voglio dire, è la gioia di stare insieme, è la gioia di voler, come dire, dare un segnale importante alla rinascita con questo nuovo anno. Quindi speriamo bene, speriamo bene. Non si poteva, non si poteva non farlo, sarebbe stato troppo triste. Non si poteva. E' anche una sorta di, come dire, tentativo di dimenticare questi momenti, questi anni che non vogliono finire, ma finiranno, certamente finiranno. Ricoverato in prognosi riservata un 24enne di Colle Sannita che ieri sera nella notte di San Silvestro è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto lungo la fortorina tra Benevento e Pietrelcina. Il giovane era la guida di una Toyota Yaris che si è schiantata contro un guardrail. In seguito all'urto è stato sbalzato fuori dall'abitacolo definito in un ballone. Soccorso è stato trasferito al Sampio di Benevento in codice rosso. Sulla dinamica dell'incidente sono ora in corso le indagini della polizia. Torniamo a parlare di Covid. Torna la paura in Valle Ufita, in Irpinia, dove si contano circa 200 contagi nelle ultime ore. Molte famiglie sono in isolamento. Oggi vaccinazione anche ad Ariano nel giorno di Capodanno e all'ospedale Moscati è morta in mattinata una 76enne di Lauro. Vediamo. Vaccini per aiutare un pochettino la popolazione. Siamo a disposizione di tutti. Vaccinatevi. E l'appello che arriva dai medici di base in prima linea nella campagna vaccinale è attivamente impegnati in supporto alla macchina organizzativa dell'ASL anche nel giorno di Capodanno. Qui siamo ad Ariano Irpino al Palazzetto dello Sport ed è proprio nel cuore delle aree interne che si è avuto nelle ultime ore un incremento preoccupante di contagi da Ariano Irpino a Grotta Minarda, Melito Irpino, Flumeri, Bonito e Mirabella Eclano. Su 974 casi positivi registrati ieri nell'ultimo bollettino dell'ASL oltre 180 riguardano questo territorio con un risveglio del contagio nella Valle del Cervaro a Greci, Saviglia-Nirpino, Montaguto e nella Baronia. Sono centinaia le notifiche effettuate dalla Polizia Municipale nei vari comuni, un elenco di famiglie in isolamento domiciliare impressionante che non si vedeva così dal periodo più critico della pandemia. attivamente impegnato il team di Panacea capitanato da Maria Spina Pratola salvo nuove disposizioni torneranno i tamponi in modalità Drevin nell'area industriale di Frigento lunedì, mercoledì e sabato prossimo. Vaccini anche in questa giornata? Sì, anche in questa giornata sono attivi quasi tutti i centri vaccinali proprio per permettere di andare avanti con la campagna vaccinale quanto più possibile. E anche nel Sannio ieri purtroppo si è stabilito un nuovo record di positivi Benevento e Montesarchio i centri maggiormente interessati. Vediamo. Il Capodanno non ferma il lavoro incessante degli operatori sanitari impegnati ormai da due anni contro il Covid. Coronavirus che negli ultimi giorni nel Sannio sta facendo sregistrare una serie di record purtroppo negativi a partire dai contagi segnalati nell'ultimo giorno dell'anno quando la protezione civile nazionale ha registrato 551 nuovi positivi in provincia di Benevento. Un dato che scenderà sicuramente nelle prossime ore ma solo per il basso numero di tamponi che sarà processato oggi Capodanno e domani che è domenica. Numeri preoccupanti sia Benevento che nei centri della provincia a partire da Montesarchio dove il sindaco Franco Damiano con urgenza nelle ultime ore ha emanato un'ordinanza con una serie di restrizioni e lanciato un appello. Gli effetti pandemici in questi giorni sono stati tremendi posso assicurarvi che amministrare in questo momento è molto molto difficile e impegnativo ma lo facciamo con il dovere che ci è dato e con l'impegno civile per tutti quanti i nostri concittadini. Noi abbiamo 120 casi Covid credo che ci siano numeri esponenziali in questo momento di crescita del Covid e quindi proprio per questo dobbiamo essere attenti e soprattutto in queste ore in questi giorni lavorare ancora per vaccinarci. Monitorata e delicata anche la situazione in ospedale al Sampio dove sono ricoverate 55 persone di cui 13 in condizioni preoccupanti nei reparti di terapia intensiva e subintensiva di pneumologia. Vediamo alle note belle di questo 2022 il primo nato in Campania si chiama Antonio è originario di Capaccio Pestum è nato un minuto dopo la mezzanotte vediamo è un batuffolo di 3,3 kg si chiama Antonio ed è il primo nato in Campania nel 2022 il piccolo è venuto al mondo con un parto naturale un minuto dopo la mezzanotte nella villa del Sole di Salerno grande l'emozione per mamma Elisabetta e papà Umberto coppia originaria di Capaccio Pestum ma anche per l'intero personale della struttura sanitaria le emozioni sono quelle di sempre soprattutto considerando che il piccolo Antonio è il primo nato nell'ambito della famiglia il collega che c'era stanotte il dottore a Bagnale e tutta l'equip hanno assistito questo nato hanno potuto brindare abbastanza dopo mezzanotte ma va bene così anche un anno fa il primo nato nel Salernitano venne alla luce nella Villa del Sole un primato che ha portato bene alla struttura sanitaria fanno tutti che le nascite sono in riduzione quest'anno in Italia sono nati 380.000 bambini quindi 20.000 in meno circa rispetto all'anno scorso noi siamo passati dai 1000 1050 a quasi 1200 nati il tutto in un'epoca contraddistinta da incertezze e paure per la pandemia che inevitabilmente ha cambiato anche il momento del parto stiamo vivendo degli anni un po' bui per tanti punti di vista quindi le attenzioni sono nettamente aumentate anche il rapporto a quello che stiamo vivendo per la situazione Covid proseguono le indagini sul rogo che ha distrutto gli appartamenti del centro migranti di Prata Principato Ultra in Irpinia i carabinieri stanno cercando di risalire all'origine del fuoco che pare sia dovuto a un problema di sovraccarico elettrico il giovane gambiano ricoverato resta ancora in gravi condizioni per le ustioni riportate la procura di Avellino ha deciso di porre sotto sequestro la struttura a tre piani gestita da una cooperativa sociale gli ospiti circa 50 sono stati trasferiti altrove in attesa di un nuovo collocamento più sicuro al momento non ci sono indagati adesso andiamo ad Ariano Irpino dove come ultimo atto del 2021 è stata commemorata in consiglio comunale la figura di Luigi Franza sentiamo l'ultimo consiglio comunale dell'anno ad Ariano Irpino è stato dedicato ad un maestro raffinato della politica l'avvocato Luigi Franza per tutti il senatore esaltate nei vari interventi le sue grandi doti politiche umane e professionali alla presenza dei familiari ecco un ricordo del consigliere Giovanni Lavita e del presidente del consiglio comunale Luca Orsonia è una frequentazione di oltre 35 anni sia nell'ambito politico che in quello professionale mi sono formato culturalmente e professionalmente all'interno di quello studio e posso tranquillamente dire di dover dare oggi un atto di riconoscenza umana prima ancora che professionale e politica al senatore Franza per i molteplici insegnamenti che ho ricevuto e di cui faccio tesoro il senatore aveva questa grande capacità quello di essere talmente sensibile e talmente umanità ha portato l'umanità in politica per cui non era un uomo dedito allo scontro era un uomo che ha preservato la sua autorevolezza non soltanto con i compagni di viaggio ma anche e soprattutto nei confronti degli avversari apriamo la pagina iniziare il 2022 con l'attesa svolta societaria l'imprenditore napoletano già fondatore dell'università telematica Unipegaso si appresta a diventare il nuovo proprietario della società Granata il passaggio di consegna avverrà nei prossimi 45 giorni ma si tratta soltanto di una formalità i trassi Susanna Esgro e Paolo Bertoli hanno ritenuto i 10 milioni offerti da Iervolino come la proposta più vantaggiosa tra quelle ricevute Salerno e i suoi tifosi meritano una squadra competitiva punterò sui giovani e sulla crescita del club le prime parole pronunciate dall'imprenditore Campano che ha promesso massimo impegno per costruire un futuro duraturo e ricco di soddisfazioni parole che hanno trovato la piena approvazione da parte dei tifosi che hanno subito invaso la bacheca social di Iervolino per far sentire il calore della piazza Granata Lui ha promesso quello che è mancato purtroppo in questi anni perché purtroppo con lo dito c'è sempre stato questo scontro verbale e lui penso che conoscendo tutte queste situazioni ha già promesso quello che a noi è mancato e noi possiamo promettere di stargli vicini e di non fargli mancare mai il nostro apporto e la nostra presenza allo stadio Anche il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha augurato buon lavoro alla nuova proprietà ribadendo totale disponibilità a sostenere l'impegno della società ma anche la necessità di rinforzare la squadra per poter competere nella seconda parte di stagione in casa Napoli arriva una novità per la difesa Tuanzebe dal Manchester United sentiamo La necessità del difensore centrale per coprire l'uscita di Costas Manolas ed ecco Axel Tuanzebe il Napoli punta sull'inglese il club azurro ha definito l'accordo con il Manchester United una soluzione che richiama all'affare Franca Anghissà con il Fulham prestito oneroso con diritto di riscatto Tuanzebe è reduce dalla prima parte di stagione vissuta in prestito all'Aston Villa una parentesi non entusiasmante rispetto alla precedente vissuta sempre con la squadra di Birmingham nel 2018-2019 quando fu protagonista del ritorno del club in Premier League ultime ore poi sarà davvero calcio mercato con la sessione invernale con l'arrivo di Tuanzebe come rinforzo per la difesa ma non solo c'è grande attesa sul futuro di Lorenzo Insigne il capitano azzurro è tentato dall'avventura in MLS con il Toronto in pressing con cifre clamorose per il nativo di Fratta Maggiore nel frattempo tamponi molecolari negativi quelli effettuati prima del nuovo anno per il gruppo squadra azzurro che si è ritrovato a Castel Volturno nel quartiere generale per mettere nel mirino la Juventus e il big match dello stadium in programma la sera dell'Epifania i rientranti dall'estero saranno ulteriormente valutati Victor Rosimen è in Nigeria dove osserva la quarantena dopo la positività riscontrata l'attaccante l'attaccante non parteciperà alla Coppa d'Africa il Benevento domani riprende gli allenamenti in vista del campionato quest'oggi la squadra effettuerà i tamponi molecolari intanto in casa giallo rossa si pensa anche al mercato di riparazione che comincerà lunedì Comincia il 2022 anche per il Benevento che è in attesa di riprendere gli allenamenti in vista della ripresa del campionato fissata al prossimo 13 gennaio al Vigorito contro il Munza purtroppo l'emergenza relativa al Covid non ha risparmiato il Benevento che al momento registra tre casi di positività era prevista per quest'oggi la ripresa ma è stata slittata a domani per l'effettuazione dei tamponi che permetterà di avere un quadro effettivo della situazione attraverso i molecolari il Benevento ha già organizzato al meglio la seduta che sarà impostata con la suddivisione di più gruppi di lavoro in modo da evitare ulteriori rischi di contagio fino a quando la situazione non verrà stabilizzata servirà una grande attenzione per far rientrare l'emergenza intanto cresce l'attesa anche per l'inizio del mercato di riparazione fissato a lunedì il Benevento sarà particolarmente attento sia in entrata che in uscita per completare al meglio la rosa non è escluso che in lista di sbarco ci sarebbero Glick e Moncini con quest'ultimo che partirebbe in prestito su di lui c'è l'interessamento di Spall e Vicenza sul fronte degli acquisti la strega non ha alcun problema con la lista over considerato che al momento vanta tre slot liberi da poter riempire nella serata di ieri è stata ufficializzata la decisione di Lega Pro di rinviare la ripresa del campionato a causa dell'escalation di contagi da covid una scelta di cui mi assumo la responsabilità ha commentato il presidente Ghirelli sentiamo il girone C di Serie C riprenderà non prima del prossimo 16 gennaio in seguito al rinvio delle gare che erano in programma nei giorni 8, 9 e 10 gennaio valide per la 21esima giornata di campionato il presidente Francesco Ghirelli ha così motivato la decisione attraverso il sito ufficiale della Lega Pro ho riflettuto a lungo ci troviamo in una situazione di incertezza a causa dei contagi da pandemia siamo consapevoli del ruolo sociale che rappresenta il calcio guardiamo con estrema attenzione alle misure che il governo Draghi ha preso e sta per prendere per fronteggiare la quarta ondata della pandemia in Italia e ne condividiamo l'impostazione preoccupa l'aumento esponenziale giorno dopo giorno del numero dei contagiati la situazione epidemiologica ha proseguito Ghirelli unite alla previsione che i prossimi giorni saranno caratterizzati da un aumento di casi fa crescere la preoccupazione e consiglia il rinvio entro il 10 gennaio 2022 il governo con la guida delle autorità sanitarie emanerà nuove disposizioni in materia di prevenzione e tutela della salute e ciò renderà le norme da applicare ancora più chiare giocare invece significherebbe determinare l'afflusso di spettatori negli stadi con ulteriori rischi di focolai i dati epidemiologici provenienti dai club ci indicano una situazione variegata la situazione va monitorata giorno per giorno con la speranza che il rinvio possa essere limitato alla prima giornata del mese di gennaio 2022 ha concluso Ghirelli siamo al basket il comitato campano ha deliberato lo stop covid per i campionati regionali fino al 23 gennaio sentiamo inevitabile navigazione a vista impossibile soprattutto per i campionati minori procedere con rinvii singoli la FIP Campania ha deciso delibera territoriale per lo stop causa covid dei tornei regionali fino al 23 gennaio è stata disposta la sospensione di tutti i campionati senior giovanili mini basket e dei recuperi già programmati le gare non disputate saranno recuperate in date stabilite e comunicate nei prossimi giorni dall'ufficio gare rispettando la sequenza originale tutte le gare rinviate potranno essere recuperate dal giorno 24 previo accordo con le società le formule di svolgimento dei campionati senior C-Gold e B-Femminile e campionati di eccellenza giovanili rimarranno immutate le formule di svolgimento dei campionati C-Silver di promozione prima divisione C-Femminile e giovanili sia maschili che femminili potrebbero invece subire modifiche nella seconda fase e saranno comunicate in breve tempo le date della Coppa Campania potrebbero subire modifiche nelle date previste il covid ripropone quindi complicazioni organizzative la Serie B del basket vive la lunga pausa fino al 9 gennaio e spera di non dover alterare il calendario Serie A e Serie A2 hanno invece già optato per il rinvio delle prime gare del 2022 in attesa di buoni segnali dai gruppi squadra con un calonetto dei contagi tra i tesserati ed è tutto per questa edizione di Capodanno in regia Michele Urciolo grazie per averci seguito arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.